Dopo essere stato omaggiato in occasione dell'ultimo Festival del Cinema di Pesaro, Ennio Morricone verrà tributato anche all'Arena BCC di Fano. Tra gli spettacoli in programma, giovedì 3 agosto alle 21, il nuovo Teatro Verdi di Monte Catini Terme porterà sul palco omaggio a Morricone, musiche da Oscar. Il nostro omaggio a Morricone, musiche da Oscar, è un po' il nostro fiore all'occhiello, con la direzione del maestro Andrea Albertini. La parte musicale, strumentale, è affidata all'ensemble Le Muse, che è un gruppo orchestrale femminile, appunto sono nove come le nove muse. La parte invece vocale è affidata alla sua dente voce di Angelica De Paoli. Questo è il nostro fiore all'occhiello perché è lo spettacolo per il quale siamo conosciuti a livello nazionale, e avendolo portato veramente da nord a sud, è dal 2017-16-17 che lo portiamo in tutta Italia e non fa altro che crescere la stima, l'affetto che il pubblico ha per questo gruppo straordinario di musiciste e di musicisti. Il nuovo Teatro Verdi allarga i suoi orizzonti, scrutando anche in Scandinavia, alla scoperta di musiche e melodie del gruppo svedese più pop che ci sia. Lo spettacolo Abba Dream sarà all'Arena BCC il 5 agosto alle 21. Questo invece è il nostro tributo appunto agli Abba, Abba Dream, The Tribute Show. È un gruppo italiano però molto celebrato e famoso anche all'estero, insomma loro si sono esibiti sia in Italia che in vari tour appunto in tutta Europa. Anche in Svezia? In Svezia non lo so, non te lo so dire, però insomma è una delle maggiori tribute degli Abba che abbiamo qui da noi e anche loro li abbiamo portati in diversi teatri italiani registrando sempre il tutto esaurito e tra l'altro appunto loro ovviamente ripropongono le coreografie originali, i costumi, riproducono fedelmente i costumi della band svedese e per cui è uno spettacolo veramente unico.